Bene, 18 esercizi dai shi shi bong Se c'è una sequenza Non ci rimentichiamo E' l'assare il corpo, di nuovo riprendiamo la postura Inseguiamo questi 18 esercizi in una sequenza continua Facciamo 8 ripetizioni in ogni esercizio Prendiamo la postura Acqua inferiore, con il movimento con il cielo Acqua nelle braccia, rilassare Ricordo brevemente i punti su cui concentrarsi Voglio giocare nei piedi Abbiando i piedi, assorbire l'energia della terra Il punto l'automico, il palmo della mano Il centro energetico della mano Poi abbiamo il punto ibu Il punto tra pollice e indice Il punto guantiao, nell'aria del fascino Il canale della cintura, la fascia della cintura I tre dantieni superiore Il petto e l'antieni inferiore Sono poi i punti su cui concentrarsi nella braccia Cominciamo con sollevare le braccia La terra, le mani, subire, forzare l'energia La terra, le mani, subire, forzare l'energia Fare il secondo esercizio Sollevare, sollevare e andare le braccia Sollevare, sollevare, swimiste Sollevare, sollevare, solleve Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.